Il prossimo Gran Premio, Gran Premio di Monza, è sicuro tra i più speciali per la Scuderia Ferrari e per questo oggi abbiamo con noi un ospite molto molto importante, Mattia Binotto, il nostro team principale. Mattia, mi senti? È buona la linea? Sì, ciao Mark, ti sento molto bene, forte e chiaro. Perfetto. Allora Mattia, cosa significa correre questo Gran Premio per chi come te ha trascorso tutta la vita professionale indossando i colori della Scuderia? Beh, innanzitutto penso che Monza è un luogo, una pista, un circuito speciale. Lo è per tutto il motosport, lo è per noi italiani, lo è per la Ferrari. Insomma, è il tempio della velocità. Poi evoca, evoca tutta una storia, evoca momenti indimenticabili, proprio come vittoria anche nostra, di Scuderia Ferrari su quel tracciato con tantissimi piloti. È un luogo speciale, un luogo che evoca ovviamente passione, evoca la passione dei nostri tifosi, evoca proprio lo spirito nostro di ferraristi. Quindi figuratevi poi per me, insomma, che sono 27 anni o mai credo che vado a Monza. Per me il tempio della velocità, insomma, il tempio del motore, Monza rappresenta sempre qualcosa di straordinario e speciale. E di questi 27 anni, o anche prima forse, c'è un ricordo più bello di altri? Beh, i ricordi sono tanti, ce ne sono alcuni anche tradici, però se pensiamo ai ricordi belli, io ne ho sicuramente un paio. Il primo che mi piace sempre ricordare, 2003, Michael Schumacher che vince su Montoya dopo una gara molto difficile in Ungheria. Avevamo messo in qualche modo discussione proprio il mondiale. E a Monza era indispensabile vincere, rimaneva un poche gare alla fine. Ricordo quel weekend perché era stato da parte di Michael un weekend incredibile, impeccabile, battendosi ogni giro sul filo del decimo e portando a casa una vittoria, che poi è stata una vittoria determinante per il resto della stagione. La ricordo molto bene, insomma, perché io in quel momento ero appunto un ingegnere motorista su Michael, quindi per me era stato un momento importante e speciale. Però, se devo dirne una in modo particolare, il 2019 è la vittoria di Schumacher. Difeso in ogni modo, insomma, la posizione, chiudendo ogni spazio dal primo all'ultimo giro e vedere, insomma, la passione dei nostri tifosi cantare l'imno con tutta la pista, il rettilineo gremito sotto il podio, insomma, adesso ricordi che non ci si scorderà mai. E parlando dei tifosi, sarà un gran premio dove loro saranno presenti nelle tribune. Questo sarà molto importante perché sarà l'evento dopo l'inizio della pandemia in Italia con più pubblico. Cosa puoi dire di questo? Sarà, immagino, molto importante di averli lì vicini. Sì, è una cosa bellissima, è una cosa bellissima finalmente rivedere del pubblico, rivedere i nostri tifosi a Monza, anche se saranno solo il 50%, ma non è un solo, perché credo che in queste condizioni è già un risultato fantastico. Quindi sono convinto che vedremo le tribune anche se al 50% praticamente gremite. Sono convinto che per chi sarà presente, i nostri tifosi sapranno appunto supportarci come se fossero in 150%. Quindi su questo ne sono certo perché devo dire che l'attitudine dei nostri tifosi ad aiutarci, a spingerci, a supportarci è sempre stata incredibile. Quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora veramente di arrivare a Monza, non vedo l'ora di poter insomma interagire con il nostro pubblico e i nostri tifosi perché è una cosa di cui abbiamo tutti veramente bisogno. Mattia, hai definito incoraggiante la stagione fino a questo punto. Cosa possiamo aspettarci per il resto delle gare e in particolare per Monza? Beh, guarda Marc, abbiamo sempre detto, per noi quest'anno è fondamentale continuare sul nostro percorso di crescita, migliorare in ogni area. Penso che il terzo posto non deve essere una sessione, il terzo posto sarà la semplice conseguenza del fatto che lavoreremo bene e continueremo a migliorarci. Monza sarà una gara, penso, sulla carta difficile perché sono lunghi rettilinei, abbiamo parlato prima, una pista di motore. e quest'anno ancora abbiamo un handicap, un gap sul motore, su quelli che sono sicuramente le motorizzazioni migliori, quindi questo sarà uno svantaggio. Detto questo, sarà un formato di sprint race qualifying ancora, quindi saranno le qualifiche già il venerdì pomeriggio, vedremo chi al meglio si saprà preparare come assetto per le qualifiche del venerdì e questo darà in qualche modo forse un'opportunità diversa. Penso anche che indipendentemente dai rettilinei ci sono comunque delle frenate importanti, dei cambi di direzione, le chicane, poter attaccare i cordi sul quale potremo, penso, con la nostra vettura dire alla nostra. Quindi da un lato penso uno svantaggio ancora di motore sui rettilinei, però non è detto, non è detto perché ci sarà un formato diverso di weekend, non è detto perché se saremo bravi dovremo cercare di ottimizzare almeno la nostra vettura e chissà mai comunque fare una prestazione sicuramente meglio di quella dell'anno scorso. Grazie mille Mattia, non vediamo l'ora tutti i tifosi di vedere le macchine in pista qui a Monza. Non vediamo l'ora anche noi, veramente contenti di andare e di vederci tuttissimi a Monza.